qui andiamo avanti qui si allarga qui continua ad allargarsi e poi mi finisce così là in fondo diciamo che finisce così ok dark allora io intanto faccio un'altra cosa non mi occupo delle distorsioni e comincio ad entrare nella barca devo scendere a prescindere dai dai dettagli dei pezzettini eccetera scendo così questo poi peraltro dovrebbe essere un po' più curvo secondo me ah una cosa la prospettiva c'è un sacco di regole di disegno eccetera però mi sapevo scendo scendo perché entra nella banca e vado a seguire l'andamento ora voglio vedere chi è che lo insegna questo dunque questo arriverà qua sotto qui gira così anche se vabbè sì diciamo che qui ci sarà per semplificare qui ci sarà il piano stai cambiando il microfono allora io qua devo mettere un altro piano che sarebbe il posto dove si siedono poi ce n'è un altro in fondo qui io sto lavorando a occhio che fa così tanto voi volete vedere qui sotto c'è un sedile così sto diventando un po' scegliere questo fa così da quest'altra parte fa così e qui c'è il buio e dopo di che vado a per particolari continuiamo domani e qui c'è un po' scegliere